Mi è apparso non presente a se stesso ed incapace di affrontare consapevolmente l'udienza di convalida del fermo. Dario Fiorentino, avvocato di Marco Cintelli, sottoposto a fermo per l'omicidio della sorella Carla avvenuto nell'appartamento al terzo piano della palazzina a due passi dalla stazione di Signa, chiederà una perizia psichiatrica per il proprio assistito, su possibili vizi parziali di mente che possano avvalorare l'ipotesi di una temporanea, parziale incapacità di intendere e di volere, al momento di uccidere. L'avvocato nelle scorse ore ha incontrato il cinquantenne elettricista in carcere per stabilire con lui la linea di difesa e ne ha ricavato indicazioni che andrebbero oltre un normale stato di shock. L'ho trovato in condizioni psichiche penose, ha aggiunto l'avvocato, uno stato tale che non gli consente di relazionarsi in alcun modo. Non ha risposto neppure alle mie domande. Cintelli è affetto da problematiche di tipo psicologico per le quali è in cura. Questo quadro, anche clinico, ha concluso Dario Fiorentino. Necessita, a parer mio, di essere approfondito. Vedremo come e in che fase. Nelle prossime ore Cintelli comparirà di fronte al sostituto procuratore Vito Bertoni per l'interrogatorio di garanzia. Il movente del fratricidio è legato a questioni economiche. Sarà l'autopsia, infine, a confermare o meno se e come Carla Cintelli è stata strangolata dal fratello.